Sì, c'è la tua stima personale? Sì che c'è la mia stima personale. E quale sarebbe? Matteo Nudo sul letto col pigiama. E io ho visto il tuo host stuprato da Nicki Minaj, no? Nicki Minaj? Cioè problemi di elitosi? Sopravvivenza e creativa. Creativa? No, no, scherzato, sopravvivenza. Bravo. Feni Matteo. Facciamo questa sopravvivenza. Feni Matteo. No. Sì. Dov'è ora giocavo? No, oddio, ora ci fanno le figure di merda. Oh, mannaggia la zanzara. Avvia. Allora, Minecraft B. Hai creato sto world? No, lo sto creando, io finisco. Ah, ma che bel nome. Teomondo. Questo qua non è lui. An... 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 Allora Steve. Ciao Steve. Perchè sei il terzo termine. perché di noi voglio oddio stavi sopra di me tipo allora vedete questi comandi questi simpatici comandi adesso vi faccio sparire no si è spento ma che cazzo perché voglio sparire perché possono sparire a me servono i comandi a me mi servono i comandi allora che cazzo sedite questo si chiama vabbè lo conoscete tutti è un plastico joystick tanto basta che vedete su youtube e trovate un sacco di guide su come connettere il vostro zigzag zig dualshock 3 al vostro dispositivo android siccome ci mette tanto ha reggi qua no qua senza staccare ma dove vai mo? no io mi metto la perché sto scomodo qua sta al 21% ha reggi a me mi hai messo a scaricare no ma devo pure sta qua non mi metto a parlare da solo tizio eeeh se non ci danno le sedie non mi hai fatto il sasso no ma che mi hai fatto il sasso a me manca la corrente no le sedie ho detto che non ci danno le sedie e chi ce deve fare e un po' di tizio dai non decide non penso che decide spero eeeh devi aver ancora stigione dai che me ha tornato a mischia yeah 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 no io devo quella mea non mi ha il nome lui è cristiano ho fatto gli sconnetto quella da user vero eeeh difficoltà vabbè non la scelgo io oleeeh mamma mia signorina agga però fammelo a ah risparmio energetico ebbè mi si scarica il telefono in carica però vabbè sto sovraccaricando sto sovraccaricando moh minecraft ps lo vedo qua posso togliere pure la come si fa ho trovato c'è una caverna aspetta ti riuscirà no non ci riesco vabbè sti cazzi ma come ti sei chiamato masturber wow no masturber masturber no ho sbagliato masturber master tumba andreano allora andiamo un po' dove sta la nuova matteam boh che a differenza della ps3 qua non c'è sta la mappa la mappa no mamma mia sbaglio tasto lo dico poi la famo pure per per canale mio e il video lo famo uno al canale tuo o uno al canale mio ci anale mio ci anale tuo quello che vi ha più a l'anno però si deve alla fine ok come si saltava non con x saltava con e coglioni miei ho preso due lani due lani wow come dici sempre vegas non portare altro per dare a casa la lana nelle cpm wow parliamoci prima che arriva notte se no potremmo fare ciao notte il mondo il mondo il mondo il mondo già tipo che si fa sempre il giorno no capito no poi è brutto perchè non spavano i gripper a farti lano ci pensi tu l'ho fatto apposta scusa non volevo io so un buon cristiano perchè sei rotto istantaneamente oh scusa dai no non l'hai fatta apposta tranquillo dai non si è visto che mi sei venuto addosso caricandomi ancora scusa non l'hai fatta per me perchè c'ho la tesa io non si è perdita no visto che mi lascia però poi vedo voglio vedere il video sul canale tuo lo stai a canzellare di merda se tu voglio ah si per questo camioncino qua ci stava giocando in un parco molto bene dico poi lo fanno pure sul canale mio no oh io mo metto questo video come content id e non te lo faccio caricare dai no ne fanno un altro voi il canale mio no ma cazzo sto fa vabbè ti tengo il coperetto dei miei video no no uno diverso da l'altro dico tu i primi episodio io il secondo no vabbè molto poi non di che poi non di che te picchio ma guarda non ti sto picchiare no so se te te che ti metti davanti poi diciamo di chiudo ma quando mai se te metti davanti e quando mai l'ho detto no appunto non so mo si sta l'arboletto tu mola o a pochettino frattano i pezzi c'è un'opax era il tordici io ho bisogno ho famo la somma e vengono 32 e li lavori a me diventano no non mi sto compri la vita vengono c 128 ma mia dimmatt time cioè con xx gaming io non hanno dj no quello è master master masturber tuber ma tu sei masturber tuber masturber no io sono di tapo tu chi sei? di tapo è uno dei masturber che bello si è baggato il maiale muscia perché che sta qua si era baggato il maiale mentre sto picchiando wow una mela una apple carina e fai la apple watch guarda ci sta un fungo a caso allora continuiamo oh matteo ciao matteo mamma mia come ho fatto a cambiare tia skin del pollo fai la graffina ah no scusa non ho sbagliato sbagliando ho fatto 4 graffina ahahah a me due te ne da te lo sai mamma mia mi ci divertirò a montato pezzo su sony regal quattro graffin table che so biscotti dove mi chiesto sto sotto un albero eh zio ce ne stanno davanti di alberi eh zio ce ne stanno davanti di alberi graffin ma lo sai che non c'è correttamente spero graffin table perchè dici maffin table perchè mi no ma te fai core su gta su come si chiama su minecraft si come fai eh so che si ma lo sai no lo so però non vabbè ti fai giocco su un tasto bravo ma la si è proprio aggiunta sta cosa no non c'è sbaglio ancora i tasti e non c'è gioco mai su ps3 cioè poco io prendo pure da cibo eh ultimamente mi sto dedicando molto a gta 5 prendo pure il cibo mezzo youtube mezzo iscritti e andrei più il cibo eh ah fai quello che vuoi basta che non mi interrompi le mie sbatture perchè io ti interrompo quanto capito perchè poi io non ci capisco più niente ah mi ricordo ah nel frattempo che noi andiamo avanti qua ho due arboretti mi ricordo ancora il primo canale che ti hai aperto ah no dino dj che sarebbe no mi ne fai confesso allora hai pubblicato anzi pubblicavo io i video il video del primo no il primo primo video di minecraft perchè parli di questo? perchè mi ricordo che uno ti ha scritto sei proprio un coglione che ho visto canale e non fatto vedere più dimmi una cosa del genere vabbè non mi frega il cazzo intanto l'avevo chiuso a prescindere stima assoluta per quel tizio io mi sono scaricato il video mi sono fatto lo screenshot del commento e adesso lo spopolo su mezza youtube ancora scosta mezza youtube è un bastardo si no vabbè non so se ce l'ho ancora se ce l'ho però lo metto cioè che voglio che tutti ovvero nessuno ridano allora continuo a pia legno io ho anche la lana fuori ua brava bravo brava signor brava brava stai facendo la legna brava 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 matteo ho trovato un pozzetto di lava oh mamma mia oh due ecco mio qua eh l'esperienza no eh no hai visto hai visto che sei proprio un disco bambino arporetti oh dio te ci buttavo ridevo perché te non potevi perché prima dovevi trovare cosa poi aspetta rincontramosi stava bambina triciclo style staffanotte che difficoltà hai messo per curiosità non lo so aspetta comunque io ho tre e quattro pezzi di lana io c'ho io c'ho 51 dei pezzi di cubi di legno guarda qua quanti vabbè io faccio il letto cazzo si è cascato qua no io non ci vedo niente ah mo con gli occhiali non eh non ci vedo niente con gli occhiali cioè non ci vedo perché è buio allora io alzerei volentieri la luminosità però stava a 48% beh si sta scaricando guarda sta pure in carica eh la fonte non è delle migliori però ah meno male non so l'unico allora perché con questo bel giorno no non è vero io so dove sta il pozzo di lava ci sto a vedere un cazzo era Ponzi Mattea stronzi dove stai? e dai dove stai? ma dove sta il pozzo di lava beh dove sta il pozzo di lava? ma mia sta col trattore e sta ragazzina non sta col prenditi dei cubi lana lana Matteo sexy Andrea non sessi eh 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 no non ti vedo io figlio non ti vedo un cazzo oh vedo luce signori vedo luce vedi un pozzo di lava ah mi sai che hai messo modalità relax perché come dici te eh ma chi l'ha messo? eh l'hai messo te perché vedo che non mi sei scaricato il cibo che faccio? lo lascio? chi è il cibo? nooo la modalità relax? eh eh vabbè per ora si la prima notte lasciala ma sai cosa dicono in molti? praticamente è molto più probabile trovare diamanti piuttosto che le zucche perchè io li incontro in ogni coso? sfida ti dicono così prova prova a vedere ora mi posso fare un piccone allora ho fatto sparire scritte del di joypad però non ho fatto sparire scritte de 0.12.1 alpha build 11 online pure mamma mia t34 samsung vabbè il codice modello del telefono quindi stavo sotto teca goodbye eh madafaga allora fammo il nostro Hortus esatto viene la pozzatilla qualcosa di loro si dentro proprio c'entra la mia un strattore sta ragazzina un strattore allora c'ho uno ma ti immagini questa canzone è protetta dal cover e che mi sparano il cover ogni due minuti tipo alla fine mi aiuterò il video falla 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 la mossa sexy vai 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 bella molto bella cosa 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 eh ci sta il pupazzo gigante quindi per il momento questo no quello funziona però quello si funziona la fatura la fatura c'è da le pupazzo gigante è che è che è che va 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 va